E' iniziato il 45esimo viaggio apostolico di Papa Francesco. Questa mattina è atterrato a Jakarta, in Indonesia, accolto da due bambini. Fino ad oggi mai nessun conflitto come l'attuale ha avuto così grande impatto sulla popolazione. Il cardinale è pizzaballa sullo scontro tra Israele e Hamas. Prosegue il Festival Castel dei Mondi di Andrea, seguiamo gli eventi in programma nella giornata di ieri. Abisceglie è presentato il romanzo Troppa notte intorno a me di Carlos Solito, nell'ambito della rassegna letteraria Libri nel Borgo Antico. Signori buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Due bambini accolgono il Papa atterrato a Jakarta. E' l'inizio del viaggio più lungo del pontificato di Francesco. Fino al prossimo 13 settembre avrà percorso 33.000 chilometri. Sentiamo. Alle 6.19 ora di Roma il volo di Papa Francesco è atterrato a Jakarta, segnando l'inizio di un viaggio storico che lo porterà a visitare quattro paesi tra Asia e Oceania. L'aereo dell'Italia Airways ha toccato terra all'aeroporto internazionale di Soekarno Hatta alle 11.19 ora locale, accolto da una cerimonia solenne e ricca di significato. Il ministro per gli affari religiosi indonesiano, accompagnato da due bambini in abito tradizionale che hanno offerto dei fiori al pontefice, ha dato il benvenuto al Santo Padre ai piedi della scaletta. Dopo i saluti con le delegazioni ufficiali e la guardia d'onore, il Papa si è diretto all'annunziatura apostolica di Jakarta. L'arrivo in Indonesia segna l'inizio del viaggio apostolico più lungo del pontificato di Francesco. Il viaggio, che durerà fino al 13 settembre, coprirà circa 33.000 chilometri con 44 ore di volo complessivo e toccherà di Asia e Oceania. Indonesia, Papa Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore. Un tour che non è solo un record in termini di durata e distanza, ma anche per l'importanza dei temi e delle persone che il Papa incontrerà lungo il percorso. Il programma dettagliato prevede incontri con autorità civili e religiose, cerimonie ufficiali, celebrazioni liturgiche e momenti di dialogo con le comunità locali. Domani il viaggio entrerà nel vivo con la cerimonia di benvenuto all'esterno del Palazzo Presidenziale di Jakarta, seguita da una visita di cortesia al Presidente della Repubblica. Successivamente il Papa incontrerà le autorità indonesiane, la società civile, il corpo diplomatico. Un momento significativo sarà l'incontro privato con i membri della compagnia di Gesù presso l'Annunziatura Apostolica, un'occasione per il Papa di ritrovare i suoi confratelli gesuiti. La giornata proseguirà con un incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e i catechisti della Cattedrale di Nostra Signora di Assunzione, una delle principali chiese cattoliche di Jakarta. A concludere la giornata, Francesco incontrerà i giovani di Scolas Occurrentes presso la casa della gioventù Grape Muda. Questo incontro riflette la costante attenzione del Papa verso le nuove generazioni considerate non solo il futuro, ma il presente attivo della Chiesa. L'intero viaggio è un segno tangibile della volontà di Papa Francesco di promuovere il dialogo interreligioso, la pace, la solidarietà, temi centrali, del suo pontificato. In un mondo segnato da divisioni e conflitti, la presenza del Papa in queste terre è un messaggio di speranza e riconciliazione. Con questo viaggio Francesco continua a costruire ponti tra culture diverse, ribadendo l'importanza di una Chiesa in uscita vicina ai bisogni di tutti, specialmente dei più vulnerabili. Il 45esimo viaggio apostolico di Papa Francesco promette di essere un momento cruciale non solo per i paesi che visiterà, ma per l'intera comunità internazionale che guarda questo viaggio con attenzione e speranza. Fino ad oggi mai nessun conflitto come l'attuale ha avuto così grande impatto sulla popolazione. A sostenerlo è il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, riferendosi allo scontro tra Israele e Hamas. Sentiamo. Un video che ha l'obiettivo di testimoniare lo sforzo per assistere e aiutare le persone colpite dalla guerra scoppiata all'indomani dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. A diffonderlo è il patriarcato latino di Gerusalemme, guidato dal cardinale Pier Battista Pizzaballa. Un aiuto reso possibile anche dalle donazioni arrivate da moltissimi benefattori di ogni parte del mondo, soprattutto dopo l'appello lanciato dal patriarca il 2 novembre 2023. Molte persone, tantissime famiglie, soprattutto a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme e in altre parti della diocesi patriarcale, che avevano perso la loro principale fonte di reddito, hanno trovato il sostegno di cui avevano bisogno. Il cardinal Pizzaballa nel video invia un ringraziamento ai benefattori singoli e istituzionali e spiega, sebbene i conflitti non siano una novità per noi, non ne abbiamo mai sperimentato fino ad oggi uno di così grande impatto e di lunga durata come l'attuale sulla vita della popolazione. Cambiamo argomento, la regione mette a disposizione fondi per promuovere il brand Puglia e i suoi prodotti turistici. Ascoltiamo. Diversificare l'offerta delle vacanze in Puglia per 365 giorni l'anno, puntando sui prodotti turistici che la caratterizzano enogastronomia, arte e cultura, mare nautica, sport, natura e benessere, wedding. Sono questi i punti cardinali dell'avviso pubblico prodotti turistici pubblicato da Aret Puglia promozione in attuazione del piano strategico del turismo Puglia 365. Il prodotto turistico consiste nell'insieme di beni e servizi di un territorio che messi a sistema compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda. Si investirà in azioni di promozione di esperienze miste, ad esempio enogastronomia e musica, wine trekking, bike tour legati alla conoscenza dei borghi abbinati ad esperienze enogastronomiche, cammini e itinerari culturali legati alla conoscenza delle tradizioni e del patrimonio artistico materiale e immateriale. La dotazione finanziaria complessiva dell'avviso prodotti turistici è di 950 mila euro, con un massimo di 55 mila euro per un singolo progetto. Un campo scuola per favorire l'indipendenza nella gestione della malattia diabetica, a promuovere il progetto che vedrà protagonisti, bambini e ragazzi diabetici, la Regione Puglia. I dettagli nel prossimo servizio. Campi scuola per favorire il processo educativo dei bambini e ragazzi diabetici e delle loro famiglie, per incentivare l'autogestione e innescare il confronto con i coetani, per condividere con essi i propri problemi. A promuovere il progetto ci ha pensato la Regione Puglia, con la partecipazione della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e del Policlinico di Bari. Sei i piani presentati dalle ASL pugliesi, che prevedono la realizzazione di attività dedicate ai minori affetti da diabete di tipo 1, appartenenti a due diverse fasce di età. Fino al prossimo 5 settembre, si svolgerà a Nardò il primo campo scuola per 45 ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Successivamente si svolgerà un soggiorno della durata di un weekend dedicato a famiglie e i loro bambini, fino agli 8 anni d'età. Tutti i partecipanti saranno così preparati ad affrontare situazioni di vita quotidiana, legate alla nutrizione, prevenzione, al trattamento degli episodi ipoglicemici e alle attività fisico-sportiva. Il valore aggiunto di questo tipo di esperienza, commenta il governatore pugliese Michele Emiliano, consiste nella valenza non solo educativa, ma anche terapeutica dei soggiorni per i piccoli pazienti, che in questo modo vengono accompagnati fino al raggiungimento di un obiettivo di importanza vitale, quello di sapersi gestire nella vita di tutti i giorni, al di fuori del contesto familiare. Torniamo a parlare del Festival Castel dei Mondi di Andrea. Ieri, nella Biblioteca Comunale Giuseppe Ceci, si è svolto un percorso laboratoriale organizzato dal collettivo CRAS. Animus Anima è una esperienza sul flusso di energia tra il corpo e l'anima. Far nascere il desiderio di una riflessione collettiva sui temi dell'alterità e dell'autodeterminazione, attraverso l'unione e il trasferimento di energie, dall'anima al corpo. Tutto questo è Animus Anima, il percorso laboratoriale ideato e realizzato dal collettivo CRAS, che si inserisce all'interno del programma di appuntamenti previsti nella 28esima edizione del Festival Castel dei Mondi di Andrea. Il progetto multidisciplinare consiste in una sorta di contaminazione tra la danza, il canto e la musica. Animus Anima sono, allora se li prendiamo dalla psicoanalisi e quindi dalla teoria junghiana, sono praticamente degli archetipi che rappresentano l'animus, la parte, la controparte maschile della donna e l'anima la controparte femminile dell'uomo e quindi le varie qualità che vengono suddivise in maniera polarizzata, quindi in due poli di maschile e femminile, qualità umane. Alterità e autodeterminazione credo che siano più degli obiettivi abbastanza difficili da raggiungere, quindi è un percorso che abbiamo deciso di aprire proprio per, partendo dalla discussione di quali sono queste qualità femminili maschile, quali sono le nostre qualità come esseri unici e come possiamo autodeterminarci invece di dover appartenere per forza ad un ruolo di genere. Le qualità della nostra anima rappresentano il focus di questo percorso che risponde all'esigenza di cercare e di sperimentare nuove relazioni con l'altro, un modo nuovo per reimparare a conoscerci attraverso un gioco di scambi di energie. È un percorso di sette giorni dove noi incontriamo degli amatori e degli appassionati che vogliono indagare un po' il corpo attraverso una tematica che è quella appunto del femminile e del maschile, si svolge quindi in sette giorni, noi li incontriamo per tre ore al giorno e l'ottavo giorno loro faranno la restituzione finale di quello che creeremo insieme. In questo momento stiamo facendo il training e stiamo lavorando sull'ascolto del peso, oggi è il primo giorno, ci siamo incontrati oggi e conosciuti per la prima volta, abbiamo condiviso le nostre motivazioni e quelle che sono i nostri punti di vista rispetto alla tematica e adesso abbiamo cominciato la parte del corpo, perché noi appunto, questo è un laboratorio di teatro danza e ci esprimeremo attraverso il corpo, quindi adesso stiamo lavorando proprio sul peso. E sempre ieri nell'auditorium Sant'Anna di Andrea è andato in scena alcune cose da mettere in ordine, lo spettacolo teatrale della compagnia Officina Orsi, un viaggio nella memoria e nella fragilità umana attraverso una narrazione sulla mancanza e sulla solitudine. Scopriamo di più nel servizio. Un lavoro sulla finitezza e sulla fragilità dell'umano, un viaggio interiore nel mondo reale e in quello immaginario tra i ricordi di una vita passata, le riflessioni sul presente e uno sguardo rivolto al futuro. E' la storia raccontata da Anna, la protagonista di Alcune cose da mettere in ordine, lo spettacolo interpretato da Roberta Bosetti e portato in scena dalla compagnia Officina Orsi nell'ambito della 28esima edizione del Festival Castel dei Mondi di Andrea. L'idea è nata da una ricerca continua che faccio da anni sulla memoria ed è la prima produzione del Fit Festival di Lugano e della compagnia Officina Orsi che siamo noi ed è l'idea nata inizialmente indagando sulla memoria degli anziani nelle case anziane, nell'RSA a Svizzera. Poi c'è stato il Covid di mezzo che ha bloccato tutto, quindi l'idea si è trasformata in una scrittura di riflessione rispetto a quello che immaginavo, che immagino io ed immagino su quello che accadrà quando succederà di diventare anziani, di inciampare in una difficoltà di memoria, di una possibile malattia. Officina Orsi è una compagnia svizzera che lavora sul territorio svizzero e lavora anche molto in Italia e da 15 anni si occupa soprattutto sui lavori della memoria, ha fatto un contenitore che si chiama Sull'Umano Sentire e raccoglie le memorie normalmente in video, questo qua invece è uno spettacolo di tipo teatrale gli altri sono più installativi. Insomma è una compagnia che lavora sulla memoria del collettivo quindi sulla memoria del collettivo per farla diventare una memoria universale, quindi raccogliendo diverse interviste e poi creando drammaturgie che raccontano normalmente la storia di una città o la storia di alcuni eventi attraverso delle memorie collettive che poi diventano una memoria unica. I pensieri alternati agli accadimenti reali diventano così i protagonisti di questa storia sul vivere sui sogni e le disillusioni, sui ricordi e sui rimpianti. Anna è una donna che teme di avere una malattia che le faccia perdere la memoria e quindi vuole disperatamente conservare questa memoria e tutte le cose belle che ha vissuto nella vita e tutto questo lo fa, lo racconta al pubblico mentre sta aspettando di fare una visita che deciderà un po' il suo futuro. Penso che voglia trasmettere la sua umanità. La storia di Anna si dipana attraverso una serie di eventi in chiave di lettura struggente ma a tratti anche ironica. È il gioco che la vita compie nel tentativo di ridisegnare una dimensione umana forse al giorno d'oggi, ormai smarrita. Ci spostiamo a Foggia dove debutterà il prossimo 5 settembre lo spettacolo teatrale scritto da Lidia Bucci, dedicato a Francesco Marcone, vittima di mafia. Il servizio. Uno spettacolo teatrale che riporta la memoria della comunità, la vitalità della storia di un uomo onesto, vittima di mafia. Io sono Franco è il monologo scritto dalla regista pugliese Lidia Bucci e che debutterà il prossimo 5 settembre al centro polivalente di Arti, Cultura e Socialità Parco Città all'interno del cartellone di eventi di Foggia Estate 2024, promosso dall'amministrazione comunale. Noi non siamo esperti di materia legale, di antimafia, ma ci piace parlare dell'uomo come uomo proprio normale, come un uomo semplice, che abbatte anche questa narrativa dell'eroe che tende a creare una distanza, perché quello che fa un eroe all'uomo comune ci risulta straordinario e quindi impossibile da replicare. Invece nel momento in cui si rende accessibile una storia, quindi tutti possono lavorare con responsabilità come Franco Marcone, è chiaro che questo ci rende tutti eroi involontariamente del quotidiano. Io sono Franco, storia di Franco Marcone racconta di un uomo che ha nel nome un destino, l'onestà. Nato a Foggia nel 1937, Francesco Marcone era un alto funzionario del Ministero delle Finanze e dirigeva l'ufficio del registro di Foggia. Venne ucciso nel portone della sua abitazione il 31 marzo del 1995, dopo aver effettuato una serie di segnalazioni e denunce attinenti al suo ruolo, l'ultima delle quali inviata alla Procura della Repubblica di Foggia nove giorni prima di essere ucciso. Mi piace ricordarla come una figura vittima del dovere e Lidia Bucci ha scritto questo testo che realmente viene fuori questo senso del dovere, questo senso della bellezza. Noi parliamo del padre anche di Franco Marcone, di Arturo Marcone, che ha salvato la biblioteca di Foggia durante la Seconda Guerra Mondiale e parliamo di questo, della bellezza. E quindi vogliamo trasferire questo e io credo che ognuno di noi, ogni giorno, anche lei che mi sta intervistando, facciamo come dire il nostro dovere e quindi nel nostro piccolo lottiamo la non regola. Marcone è stato riconosciuto vittima del dovere ed equiparata a vittima innocente di criminalità organizzata di stampo mafioso. È un invito a vedere uno spettacolo teatrale, è un invito a vedere la storia di un uomo onesto, di un uomo normale. La vittima della morte è dove chi muore e chi resta, i morti non sanno di morire, invece chi resta perde sempre una parte di sé. Presentato a Bisceglie e nell'ambito della rassegna letteraria Libri nel Borgo Antico, il romanzo Troppa Notte intorno a me, scritto da Carlos Solito. Ascoltiamo le sue parole. Troppa Notte intorno a me racconta la risalita dal buio, proprio come Dante a rivedere le sterre. E' appunto il protagonista Dante che si ritrova nel momento più buio che un padre può vivere nella propria esistenza, ovvero perdere un figlio. E quindi questo viaggio, un viaggio carsico, profondo, assolutamente erosivo, porta il protagonista con l'aiuto di un Virgilio dei nostri giorni a risalire questo dolore, a espiarlo e soprattutto a vincerlo, fino appunto a rivedere le sterre. E Troppa Notte intorno a me è la celebrazione di un viaggio, la celebrazione di un viaggio sottoterra, sotto i nostri piedi, ovvero nelle grotte, tra caverne, voragini, abissi, gallerie stupendamente arabescate da starattiti, staradimiti, che sono state cesellate, scolpite, dallo scultore Antelitram per Antonomasia, ovvero l'acqua. E quindi un viaggio dalle Alpi Verittime fino al Carso Triestino, dall'Appegnino Umbro fino a quello marchigiano, con le grotte di Frasassi, fino alle grotte di Collepardo, e ancora il Cilento, gli Alburni, i Monti Picentini, protagonisti indiscussi di questo libro, fino ad approdare appunto nella nostra Puglia, nel Carso della Murcia e soprattutto del Bergano e del Cilento. E si chiude qui questa prima edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata. A più tardi. Grazie a tutti.